Da consigliere comunale mi vengono sottoposte alla mia attenzione varie situazioni, anche strane, anomale, sulle quali ovviamente cercherò di approfondire presso gli uffici tecnici. Infatti mi rivolgerò al comando dei vigili urbani proprio per questa fattispecie. Mi trovo infatti in via Calabria 1 e vedete c'è uno strano parcheggio per diversamente abili. Per carità il massimo rispetto per i diversamente abili. Io ho avuto mio padre e mia madre in sedia a rotelle, so cosa significa, però i cittadini mi hanno domandato ma come mai un parcheggio per i disabili delle strisce gialle così lunghe, così enormi? Strano, certamente differente la dimensione di questo posto auto appunto riservato ai disabili rispetto agli altri e lo vedete è molto ma molto lungo di tal che quasi potrebbero andare due disabili, due auto per disabili ed è un parcheggio, vedete, che è numerato. Numerato vuol dire appunto riservato, riservato appunto ad persona. Ora io ripeto, non voglio assolutamente creare questioni perché i diritti dei disabili sono sacri, devono essere tutelati in ogni modo, in ogni luogo e in ogni sede però la domanda sorge spontanea. Ma perché ad alcuni un posto di fatto doppio uno spazio in cui potrebbero andare due macchine anziché una? Certo deve essere lasciato lo spazio per la manovra però ovviamente qui stiamo parlando di dimensioni lunghissime che vanno ben oltre il tratto diciamo per consentire appunto la manovra dell'auto del diversamente abile. Questo in via Calabria ma ora vi facciamo vedere altre situazioni analoghe in altre vie e ci troviamo ora in via Cape Celatro all'altezza del Civico 52 e qui un altro, vedete, posto riservato ai disabili sempre numerato, anche qui ha una lunghezza molto ma molto ma molto estesa, certamente fuori misura, lo ribadiamo il diversamente abile deve avere lo spazio di manovra necessario per parcheggiare però mi sembra qui una situazione davvero eccessiva, qui ci potrebbero entrare, anche qui ripeto potrebbero entrare due auto, vedete qui addirittura è stata anche fatta male, sembra quasi fatta a mano ma non lo è, non sembra fatta a mano ma in ogni caso, in ogni caso qui lo spazio è estremamente ampio, vedete ci potrebbero andare quasi due macchine bastava un altro, un po' di spazio giusto per consentire la manovra. Ecco vedete queste sono le stranezze di Taranto io ripeto noto queste cose molto strane, mi vengono segnalate stranezze, io non voglio né assolvere né condannare voglio capire però qual è il criterio, qual è la razio, qual è la logica ispiratrice di certe quantomeno disparità perché vedo che ci sono disparità tra anche purtroppo tra posti riservati ai disabili, posti auto non vorrei che pure per i posti auto, per i disabili ci fossero come si suol dire disabili di serie A e disabili di serie B verificheremo, verificheremo, mi rivolgerò al corpo di polizia municipale, all'ufficio che rilascia i permessi e cercheremo di capire e ovviamente vi notizierò sull'esito di queste indagini grazie a tutti